La Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe revocare il diritto all'aborto che è in vigore dal 1973 grazie a una storica sentenza, la Roe contro Wade, che stabilì che lo Stato non ha diritto di intervenire nella decisione di una donna sulla sua gravidanza. La notizia però è di portata globale perché da anni molte associazioni e reti femministe di tutto il mondo denunciano l'esistenza di una rete sovranista di destra che proprio sul diritto all'aborto sta serrando le fila utilizzando l'aggressione ai diritti delle donne per rimarcare la loro politica ultraconservatrice e riuscire a polarizzare così il proprio elettorato. La composizione della Corte Suprema americana del resto è stata disegnata dall'ex presidente Trump e la scioccante rivelazione, per ora si tratta di una bozza di decisione trappelata chissà come alla stampa dalla Corte, cade a fagiolo, se ci pensate, per alzare lo scontro politico in vista delle prossime elezioni di midterm a cui Biden arriva sensibilmente indebolito e che potrebbero ridisegnare l'equilibrio del congresso-USA a favore dei repubblicani. Contro l'aborto però da tempo si batte anche Bolsonaro in Brasile oppure l'Ungheria guidata da Orban e la Polonia dove proprio un tribunale a gennaio di quest'anno ha dichiarato incostituzionale l'aborto provocando l'indignazione anche dell'Unione Europea. La rete di associazioni antiabortiste e provita, le stesse che alimentano sempre la solita retorica della famiglia tradizionale, non distegnano nemmeno di attaccare gli omosessuali che secondo loro andrebbero curate secondo teorie che non hanno tra l'altro nessuna base scientifica, è un filo nero che si avvolge intorno anche alla continua minimizzazione del femminicidio e alle visioni delle donne come angeli del focolare che devono, come fine ultimo, occuparsi dei figli senza permettersi mai troppe ambizioni in tema di lavoro e quindi anche di autonomia personale. È un salto indietro al secolo scorso che è molto più incombente di quello che si pensi, se è vero che anche qui da noi, in Italia, a partire dal congresso mondiale della famiglia che era andato in scena a Verona nel 2019, Matteo Salvini e Giorgio Meloni non si fanno nessuno scrupolo di dimostrare un completo appoggio a queste tesi. Il congresso mondiale della famiglia va ricordato ebbe inizio negli anni 90 quando l'americano Alan Carlson, un ultracattolico alla guida di un gruppo conservatore contro divorzio e aborto, abbracciò la collaborazione del sociologo russo Anatoly Antonov, uno dei maggiori allarmisti internazionali per il calo demografico. Per questo ciò che sta accadendo negli USA ci interessa molto da vicino. Nello slogan Dio, patria e famiglia c'è esattamente questo stesso pensiero ultraconservatore. Anche da noi il diritto all'aborto, pur presente sulla carta, in questi ultimi anni è stato ostacolato con invenzioni burocratiche, da governi regionali, attrazione Fratelli d'Italia e Lega, Umbria, Marche, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Basilicata, che hanno adottato politiche di contrasto favorendo la chiusura dei consultori pubblici e incitando i medici all'obiezione di coscienza. A questo punto l'equazione è molto semplice. Quale paese si appresta alle prossime elezioni politiche con la reale possibilità di vedere partiti antiabortisti al governo? Pensateci bene. Siamo noi.